Buongiorno a tutti, siamo qua all'Istituto Rumino di Cultura di Venezia per aprire la sezione dedicata agli Under 25 del settimo premio Alte Laguna. Abbiamo riunito in questa prestigiosa sede, situata fra l'altro in una zona di grande passaggio della città di Venezia, un gruppo di giovani artisti che possiamo pensare siano un po' le promesse dell'arte del futuro. Arte Laguna è un premio, è un evento più che altro che si è sviluppato, possiamo dire, insieme a noi, siamo cresciuti insieme, come dicevo anche nella conferenza stampa e ci fa sempre piacere ospitare la mostra degli Under 25, che sono le promesse, i giovani talenti che il premio porta in visione. e noi siamo molto felici, siamo molto felici, siamo molto felici, siamo molto felici, e noi lavoravamo molto, ma gli organizzatori lavoravano molto molto per noi, quindi abbiamo fatto un buon lavoro insieme. Penso che in generale, questo evento apriva le porte per tutti noi. Il lavoro che ho entrato nella L'arte Laguna è un'installazione che si chiama La Last Gun, e ha won il primo primo prezzo per l'installazione di sculpture, e è un grande honore per me, è qualcosa che sarebbe una grande attività per ogni artiste, per me è davvero molto felice, per me è inspirato e motivato a continuare a lavorare e a creare. Mi chiamo Dina Shenhar, io sono da Israele, da Tel Aviv, e sono molto felice di essere qui, è sembra una buona exibizione, e per me è molto bello, perché molti persone vanno, molti artisti vanno, e sono molto felice. Per il mio progetto, voglio dire che abbiamo bisogno di essere attraverso con la nostra natura, e abbiamo bisogno di salvare, perché nel futuro può essere per noi, per noi. Mi piace molto essere qui, nella L'arte Laguna, e voglio dire grazie a tutti che mi aiutano, qui mi aiutano, e voglio dire grazie a tutti che mi aiutano a casa. Mi chiamo Mildrede Howard, e sono da Berklee, California, in Unione, e credo che sia un'ottima cosa di essere presentato questa piece, in particolare in Venice, perché Venice è conosciuto per la sua glass, e l'opportunità di avere un'exhibizione con molti altri artisti da tutta la nostra natura. Ho sempre amato Venice, e poter vedere il mio lavoro qui è veramente ecceppional, quindi grazie. In mio lavoro ho cercato di avere una visione di un'attività di un'attività di un'attività, un'attività di 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 un'attività. È un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. Hi, mi chiamo Jill Townsley, e sono da l'Englanda, e vivo nel nord dell'Englanda, in Huddersfield. La Art Laguna Prize è molto anima. E' stata molto felice a essere in la chiamata e poi la chiamata l'attività, la final, è stata molto anima. E' stato molto buono essere qui, con molti altri artisti, e tutto il lavoro che sta succedendo, è molto anima. Quindi, non posso aspettare a finire. È stato molto complesso. La fogna in Venezia ha fatto la mia papà molto soft, che è stato difficile, quindi abbiamo dovuto alterare le cose, anche quando siamo qui, ma ho avuto molti aiutti da persone locale, che hanno volontariato e venivano aiutare il lavoro, quindi è una reale collaborazione. Il quadro rappresenta una tipica famiglia degli anni Sessanta. L'uomo si annulla, costringendo se siete uomini e la famiglia si annullano, costringendo se stessi a rinunciare ai propri valori, ai propri desideri e la propria personalità, per diventare quello che le situazioni e le istituzioni gli chiedono di essere. Questa è una delle opere finaliste per la sezione del 25, si chiama Attesa. Fa parte di una serie di opere che seguono come ricerca principale, come oggetto di ricerca principale, la sospensione, i falsi equilibri. Generalmente non uso elementi figurativi nell'opera, in questo caso sì. Ho voluto creare una frizione tra la calma che suggerisce la struttura orizzontale del quadro e la presenza di un'unica figura, quella di un uccellino, che d'altra parte in un certo senso contraddice l'idea che generalmente abbiamo di un volatile, perché l'inferno è il titolo attesa, è relativo più che altro a quello che dovrebbe ispirare nell'osservatore, perché è chiaro che non ci si aspetta che da un momento all'altro debba volare via o qualcosa del genere. Il lavoro che mi presento è un drawing made out of graphite on paper. È un portrait di Gianni Dixon, che è un americano astrologo. Se guarda da l'albero, sembra che si è tornato a volte, ma non è. Se guarda da ogni segmento, ogni segmento è in sua posizione corretta. Quindi è come se un watchmaker abbia fatto il don with tonight. Nella mia opera si intitola Change the Rules, cambiare regole. E come nella mia opera dei palloncini di Elio riescono a sollevare delle pietre, anche nella realtà, nella vita di tutti i giorni, grazie alla collaborazione, alla partecipazione e alla forza di volontà, si possono cambiare leggi che possono sembrare ingiuste. Il mio nome è Hagar Fletcher, sono da Israele. E credo che sia una grande opportunità di essere qui, perché A. posso mostrare il mio lavoro con altre persone. B. posso parlare l'italiano. E C. posso divertire il tuo bello sangue. Il mio nome è Maria Wasilewska. Il mio nome è Maria, ho venuto da Polonia. E sono felice che posso fare l'attivazione qui, perché è un'interessante per me, per comprare con altri artisti, altri mondi. A.